e allora ci siamo ecco l'agenzia moderna noi qui alla grande allora parliamo di menorca questa è l'isola che ti dicevo io il papà il biglietto è quello che vedi con degli orari più consoni possibile è una tariffa gestibile e già il bagaglio inclusa per tutte e due andata ritorno messo degli orari che sono compatibili e questa è molto interessante dell'isola dove io ho mandato qualche foto così come l'ho mandato di ibiza come vedi il prezzo è per tutte e due poi andiamo a vedere gli alberghi questo è un albergo di menorca centralissimo qualcosa di spettacolare per star comodi come vedi c'è anche un range 10 ecco questa è l'isola di minorca tutta l'aria dove vedi il puntino rosso c'è l'albergo poi la parte più bella sono quelle spiagge che tu vedi qui dove adesso si ferma la freccia pappa la parte qua esatto ecco queste proprio qui vedi queste parti che ti sto indicando ora sono le parti più l'isola completamente selvaggia mentre tu sei dal centro dunque basta prendere un mezzo per girarsi la russa e godersela la grande ora ti faccio vedere poi che alberghi tra scusami l'alberghi progetto questo invece ibiza e adesso ti faccio vedere il volo il volo è un volo diretto e addirittura mi sembra che 10 19 sembra errato quello il prezzo che vedi è per tutte e due incluso il bagaglio non so se 10 15 chili ora torniamo sull'isola quella che sta ti sto indicando è la parte più bella più viva insomma dove ci vogliono i soldi pestacce parliamoci chiaro è questa la località ora invece dove è più umano e quest'area che ti sto indicando ora che è sant'antonio e come vedi qui i prezzi sono un po più umani no sauren al ecco questo è un albergo che ancora si può dare come vedi quel prezzo che c'hai e per tutte e due in tutta la settimana e tutto il periodo sono delle strutture accettabili e vendibili sul mercato italiano ecco qui è un prezzo ancora alla buona perché la parte di figo terras quella più centrale sono i soldi che adesso ti indico come come struttura alberghiere con la vedi quelli che vedi sopra che stanno sopra i 2.000 ecco quelle sono le parti più centrali che dicevamo adesso voglio portarti invece a il prezzo questo era appunto questo era invece valencia qui gli alberghi costano un po meno è una struttura molto bella la località anche le strutture alberghiere che ti ho preso sono centrali e qui c'è un grosso lungomare calcola qui ci fanno anche il gran premio no come sai dunque ce n'è tanto da vedere c'è un bellissimo acquario ecco i prezzi che ti sto dando sono sempre prezzi a camera per le 8 9 notti 10 notti un merito adesso ti faccio vedere un volato veliche che con bagaglio da stiva bagagli a mano e quant'altro se intorno alle 550 600 euro una cosa resta di palapine e questo è l'albergo che ti dicevo io secondo me questa è una loro realtà abbordabile se tu non vuoi spendere una grande quantità di denaro insomma ecco io spero di averti accontentato alla prossima l'agenzia moderna